Concerto di fine anno? No, non è un concerto di fine anno, è un concerto che noi facciamo nell'ambito delle festività mariane. La nostra scuola è l'unico istituto comprensivo che partecipa a questi eventi, perché è una scuola nell'eccellenza anche nella musica. Ovviamente c'è tanto lavoro dietro, i docenti che sono straordinari, e quando ci sono docenti straordinari gli alunni lo sono altrettanto. Ho visto che sono molto entusiasti i ragazzi. Ma sì, l'orchestra è costituita da 30 ragazzi, non posso dire bambini, 30 ragazzi che lavorano tantissimo, quattro sono gli strumenti studiati in questa scuola e loro veramente lavorano con tantissimo entusiasmo e i risultati poi si vedono. È una scuola che guarda avanti? Sì, assolutamente. Noi guardiamo avanti, anzi ne approfitto per dirle che tra pochi giorni accogliamo i dirigenti, i docenti e gli alunni di scuole partner europee. Vengono quindi a trovarci nell'ambito del progetto Erasmus. La nostra scuola, io personalmente, siamo stati di recente in Germania, in un'esperienza anche questa straordinaria, e quindi ora accogliamo i nostri partners europei in un cinque giorni di attività veramente intensa. L'Arna Franck nel Mese Mariano ha organizzato questo concerto, Notte del Cuore, e lei è il direttore artistico e musicale di questa orchestra della scuola. Mi reputo un semplice collaboratore, al pari delle mie colleghe, dove il lavoro viene distribuito per classe, cioè per classi di insegnamento, c'è chitarra, il maestro di chitarra, violino, la maestra di violino, flauto, che oggi è assente per Covid, e la saluto con un caro abbraccio, ed io che sono alla parte pianistica, ma anche agli arrangiamenti, cioè io curo gli arrangiamenti, la scrittura, eccetera. Finalmente, io devo dire, finalmente abbiamo visto che già nella scorsa edizione che abbiamo fatto una premiazione, si muove qualcosa, la gente comincia a circolare, i genitori vengono a sentire i propri ragazzi, cosa che non era accaduta fino adesso.